bestiale sta cosa qua mi ricorda post mortem lei mai giocato post mortem questa canzone jazz di sottofondo sulle immagini inquietanti capolavoro post morto giustamente sentiamo chi è che scassa la minchia qua tieni premuto per saltare per saltare il video magari no però beppe io qua se ruoti te la smarmella anche te esattamente come coso come decorri ma io che cosa ho fatto di male fa esattamente fa tutto il ghosting esattamente come decorri cioè non può nemmeno essere la mia tv perché oggettivamente tu c'hai la tv più figa cioè sai no che c'hai tutto il bordo quando ti giri c'hai il bordo della testa tutto hai presente cosa sto dicendo ma cristo che vizio ecco boh allora avevo visto una scatola come si chiama quelle robe lì che sa quella che fa pidi 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 pam carione sì quello che salta fuori il clown però tra l'altro vedo anche i colori un po poco contrasto tu mi dirai sono daltonico cazzo che cazzo che so cazzo che so cazzo che so scusami c'è stato un attimo possi ah non ho la chiave dove vai dove vuoi andare c'ho sti colori lo vedo tutto lo vedo slavato come te lo posso dire un po' spento manca proprio di contrasto ma non c'era il giardino qua avevo visto un giardino visto male cassandra attenzione caccato in mano poco poco tarola i need to get this letter to my niece she would understand just give it to the club mister white and he'll post it no it could be in on it what if he won't post my letter and don't make it look like it's one of yours here let me do it secondo te hanno usato le voci originali o è proprio doppiato di merda cioè e soprattutto anche quando quel tizio muove le mani ogni tanto si lascia dietro la scia ma che cazzo sta succedendo miss emily hotwood the fan street new orleans you don't have the number not sure the postman's gonna find it without jeremy jeremy where he go gli scherzi e fai così allora devo essere onesto sono ignorante io non ho presente di che c'è capito lo conosco di fama come pietra miliare però io sono proprio ignorante quindi non so ho parlato di voci originali ma all'in the dark ce n'è anche uno vecchio vecchio quindi magari come c'è così molti libri in questa casa e ancora non c'è niente che voglio leggere battista battista chiave dell'atrio no io sembri non mi aspettavo il corvo all'inizio mi ha preso un mezzo infarto per il resto non c'è nemmeno troppa atmosfera mi sembra avevo un po' fatto così vabbè andiamo no ma non era qua l'atrio sono un coglionazzo era lì ogni tanto vabbè vabbè la bambina scompare ricompare succedono robe strane capito e adesso oh no jammy che cazzo combini inoltre non posso correre inizialmente mi manca la chiave oh vabbè qua viviamo nella parude di shrek fondamentalmente porca della bastarda fermo lì seduto va salta sull'orso fai un attimo di di diana jones qua te bam bam è astante raga dora l'esploratrice qua fa un po' di ma non lo so stai ferma ancora un po' fatti mangiare vai tanto problema c'è salta senti il film di del toro sembrano allora boh esplos mi ha glitchato l'audio ma che cazzo vero bestiale niente qua niente qua sono solo delle chiavi che non ho signor wait e raga è tutto chiuso però che dobbiamo fare ah devo chiamare qua che Dai non può essere questa la demo No dai Sembrava Cioè ma scusami se la narrano così Tanto questo qua è coso Non è quello di Guarda che è seriamente finita la demo Allora io sto riniziando Voglio provare a usare la chiave su un'altra porta perché abbiamo visto più porte Cioè non può essere solo così la demo Mi è un po' vergognoso dai Perché non c'è veramente Non c'è veramente nulla in questa demo Se non farti spaventare Cioè c'è stato il corvo qua Questo qua A distanza di merda Ti spaventi col corvo all'inizio E poi fai Eh basta Finite lì Beppe io Non vorrei deluderti ma La demo è questa E ho cercato su internet Endings Multiple ending Non Non c'è niente Cioè la demo è questa Dura dieci minuti Cioè magari è una roba Che magari ti gasi di più Se conosci già Capite Essendo Essendo un reboot Dell'originale Magari se conosci l'originale Cioè è servita a vedere Gli smarmellamenti E il doppiaggio che fa cagare I colori slavati Bon basta Il tizio di Stranger Things Questa è stata la demo Cioè A farmi spaventare col corvo Perché sono piccio io Cioè Non so Un po' deludente Mi Sono curioso adesso Capire l'originale Eventualmente Capire un attimo Come funziona Però è andata così tendenzialmente È proprio finita La questione Allora Essendoci ste due porte chiuse ancora O Magari Andando avanti Aggiornano la demo Però Guarda Lo Lo speravamo anche Sai Per la demo dell'otto Però non hanno mai aggiornato un cazzo Che delusione